Un anno fa, nella notte tra il 17 e il 18 maggio, nel Bosco di Miraglia, tra Cesaro e San Fratello, si consumava l'attentato ai danni del Presidente del Parco Nedebro, di Giuseppe Antoci, che scampò ad una raffica di mitragliata all'indirizzo della sua auto blindata. Ad un anno di distanza, appunto, 14 persone sarebbero state raggiunte da un avviso di garanzia nell'ambito dell'inchiesta della DDA della Procura di Messina, che ha delegato le indagini alla squadra mobile. Le informazioni di garanzie, scrive la Gazzetta del Sud, sarebbero funzionali ad accertamenti tecnici non ripetibili a carico delle persone iscritte nel registro degli indagati. Probabilmente si dovranno fare degli esami per la comparazione delle tracce biologiche lasciate agli attentatori sul luogo dell'agguato, dove sono stati ritrovati i mozziconi di sigaretta. La pista privilegiata dagli investigatori è quella della mafia dei Pascoli, che si sarebbe ribellata ai controlli messi in atto allo Stato sugli affari dei finanziamenti pubblici europei per il settore agricolo, grazie al protocollo di legalità voluto da Antoci. Ho sempre avuto grande fiducia nei magistrati e nelle forze dell'ordine, che indagano con costanza e tenace. Avevo ragione, ha detto il Presidente del Parco de Nebrodi, commentando i 14 avvisi. E' passato un anno da quella notte tremenda, ha aggiunto. Non sarò mai più la stessa persona che ero fino al 17 maggio del 2016, non potrò più esserlo. La mia vita è cambiata come sono cambiate le mie notti, i miei sogni, le mie paure. Ma quando vedo i risultati che stiamo ottenendo nella lotta alla mafia attraverso il protocollo di legalità, quando vedo tanta gente che ci crede, quando vedo tanti giovani che mi dicono andiamo avanti, allora a quel punto tutto diventa più chiaro e più sereno. Il protocollo è stato siglato nel 2015 tra i comuni del Parco, la Regione, l'ente di sviluppo agricolo e la Prefettura messinese. Il protocollo è stato poi esteso a tutta la Sicilia.